Il progetto dal pensiero alla realtà consiste nel far utilizzare ai ragazzi un programma di modellazione tridimensionale per il disegno con il computer. In questo modo si pone l'attenzione sull'oggetto reale, sulla sua forma reale, piuttosto che sulla sua rappresentazione grafica bidimensionale, proiezioni ortogonali e sonometrie, come si faceva 50 anni fa quando il modo di progettare e il mondo del lavoro erano profondamente diversi da quelli che sono oggi. L'oggetto quindi pensato direttamente in tre dimensioni viene realizzato con strumenti innovativi in modo virtuale e poi può essere realizzato in modo concreto attraverso una semplice stampante 3D. Il progetto si rivolge principalmente alle classi seconde e terze della scuola media e viene svolto nelle ore di tecnologia che purtroppo sono soltanto due settimane e che spero domani non possono aumentare. Penso che sia importante fare in modo che ciò che viene insegnato a scuola sia più vicino a quello che i ragazzi presto troveranno nel mondo del lavoro, che oggi, ripeto, è profondamente cambiato rispetto a 20 anni fa. L'utilizzo di Catiari chiede uno sviluppo della capacità di ascolto dei ragazzi e una logica che non è più quella che può essere appresa basandosi su libri di testo. Entrambi questi fattori, la capacità di ascolto e la logica saranno fondamentali per il loro futuro percorso scolastico e collaborativo.